Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Firenze Nord e Firenze Peritola e code a tratti tra Pistoia e il Vivio per la 1. Sulla FIPILI per viabilità esterna che non riceve code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. A causa di una frana chiusa la statale 12 della Betone del Brennero all'altezza del chilometro 73 in località San Marcello Piteglio. La statale 68 Val di Cecina è chiusa dal chilometro 23 al chilometro 25 a Montecatini Val di Cecina per un allagamento e al chilometro 47 a Volterra per una frana. Per un allagamento chiusa anche la 398 via Val di Cornia dal chilometro 24 al chilometro 23 a Monte Rotondo Marittimo. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!